Noi poi volevamo condividere con voi, forse molti lo sapranno già, però lo dico perché è una cosa bella e quindi voglio condividerla proprio con i miei amici, con il pubblico del blues, con il pubblico della Tredi Blues Band. Tra tante me sono state scegliere per aprire il tour del Deep Purple. È una cosa che ho voluto dire, non tanto perché voglio fare lo sporone, ma perché ho visto tante facce amiche e quindi è bella, bella l'idea che il Deep Purple abbiano detto sì, poi hanno detto vi facciamo usare anche il nostro impianto che non era quello da fuori. Potevano andare uno dei tanti gruppi che ci sono in giro, invece hanno scelto il gruppo del Vecchio Pungo di Ambrate, quindi grazie anche a voi. Grazie. 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 Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!